Partiamo allora dall'ariete. Gli astri di oggi vi sorridono e sotto la loro benevola luce tornerete finalmente a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni siete stati costretti a trascurare. Toro, sarete lenti e intempestivi soprattutto sul lavoro e il nervosismo monta, visto che al momento i vostri riflessi sono piuttosto appannati non sovraccaricatevi di troppi impegni. Gemelli, il cielo vi sorride, portate a termine in fretta certe urgenze e potrete dedicarvi agli svaghi e ai divertimenti senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata. Cancro, giornata nì, non lasciate nulla al caso né all'improvvisazione, è meglio giungere a certi appuntamenti adeguatamente preparati. Leone, c'è gran fermento nel vostro cielo. La giornata è all'insegna dell'ambizione. Coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Se si tratta di lavoro è opportuno puntare sulla programmazione degli impegni che avete in agenda. Vergine, in questa giornata vi dedicherete finalmente ai vostri hobby preferiti. Inizierete nuovi studi connessi alla spiritualità, svilupperete il talento per la musica o per l'arte. Bilancia, semaforo acceso sul verde. Vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure. Le stelle vi rendono oggi più entusiasti del solito e se avete un'attività commerciale ne trarrete benefici. Scorpione, con il partner oggi arriverete ai ferri corti. Un po' per il vostro crescente nervosismo di fondo che crea inevitabili problemi nei rapporti. Sagittario, per voi una buona giornata. Potrete risolvere con grinta e un po' di buona volontà una questione in campo lavorativo oppure riprendere le file ad una trattativa d'affari, inizialmente poco chiare e convincente. Capricorno, avrete finalmente la possibilità di far valere le vostre ragioni un po' in ogni settore dell'esistenza. Se siete stati vittime di qualche soppruso adesso potete ottenere giustizia. Acquario, fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona, nel lavoro come nella vita privata. Non siate dispersivi, potete accapparrarvi i grandi appoggi. Pesci, l'energia va convogliata nel settore professionale. Se volete vedere dei risultati non passate il tempo a lamentarvi, agite con sicurezza e determinazione. Aiuti inaspettati giungeranno comunque al momento opportuno. Grazie. 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 Grazie.